Campagna vaccinale al via da oggi per docenti e personale delle scuole Impugnata al TAR l'ordinanza sulla didattica a distanza, Ancona chiude tutte le scuole Covid 415, nuovi contagi, 67 a Pesaro, quasi la metà ad Ancona Gestione di eventi e due nuovi direttori, le novità della Fondazione Pescheria Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV Il canale 633 del Digitale Terrestre e bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Subito in apertura parliamo di cronaca con un grave incidente che si è registrato nella zona di Fosso dell'Eremo non lontano da Piobico dove un escursionista di 68 anni intento ad effettuare un'arrampicata è deceduto in seguito ad una caduta da oltre 10 metri A segnalare quanto accaduto per allertare i soccorsi è stato il compagno di escursione dell'uomo Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di salvare la vita del 68enne carandosi da un elicottero insieme ai medici Questi ultimi però hanno potuto soltanto constatare l'avvenuto decesso dell'escursionista E ora cambiamo pagina e parliamo della campagna vaccinale che da questa mattina anche a Pesaro, al centro Monaldi, si è aperta ai docenti e al personale delle scuole Nel frattempo sono proseguite anche le inoculazioni destinate agli over 80 per i quali nella giornata odierna si è accumulato un po' di ritardo che ha suscitato qualche malumore tra le persone in attesa Vi raccontiamo tutto in questo primo servizio Anche se con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia questa mattina sono partite anche a Pesaro le vaccinazioni riservate ai docenti e al personale del comparto scolastico vaccinazioni che proseguiranno per alcuni mesi per completare il percorso che interessa circa 7.000 lavoratori delle scuole È andata molto bene, io non ho sentito niente, adesso sto bene, sono sollevata e speranzosa speriamo perché comunque i casi nelle scuole cominciano a essere, insomma, non è una situazione tranquillissima quindi mi sento un pochino più protetta, poi vediamo anche dopo la seconda dose però devo dire per adesso sto bene Io mi sono prenotata quando è che era il 27 e oggi è il 2, quindi sì, sì, sono riuscita a prenotare subito Io ci spero, ecco, se non altro a tornare un po' alla normalità o a essere comunque più protetti però bisogna farlo il vaccino per fare in modo che non ci sia una diffusione Sicuramente la vaccinazione è importante non solo per la scuola ma anche per la società perché se mi vaccino io proteggo me stesso e proteggo anche gli altri, soprattutto i più fragili Finora le scuole medie almeno sono state tutte in presenza, sono stati luoghi, almeno lavoro io, luoghi molto sicuri non ci sono stati molti casi di persone, sia nel personale scolastico che anche di studenti, di casi positivi sono stati davvero pochi perché sono rispettate tutte le misure di sicurezza Quindi adesso con la vaccinazione sicuramente sarà ancora migliore la situazione Le scuole continuano a essere un serbatoio importante dell'infezione a SARS-CoV-2 quindi era importante iniziare con la vaccinazione del personale scolastico Utilizzeremo per questi lavoratori il vaccino AstraZeneca Soltanto in casi particolari di soggetti che presentano condizioni di estrema vulnerabilità solo in questo caso allora sceglieremo un altro tipo di vaccino, un vaccino RNA Le agende per gli insegnanti, il personale don docente erano aperte da ieri però c'è stato un piccolo disguido nel sistema di prenotazione per cui i posti assegnati nell'agenda ieri sono stati occupati erroneamente dagli ultraottantenni Sul vaccino AstraZeneca l'indicazione è stesa fino ai soggetti di 65 anni quindi potranno prenotarsi e iscriversi i soggetti fino a quest'età I numeri di queste prime giornate poi come si procederà? Noi abbiamo predisposto delle agende che prevedono 70 operatori scolastici nei centri di Urbino e di Fano per ogni seduta e 140 quindi il doppio per il centro di Pesaro che è più grande e che prevede 8 postazioni Ad oggi mi sembra che i prenotati sono 81 per il problema che le dicevo precedentemente perché alcuni posti per questi primi giorni di marzo sono stati erroneamente sottratti dagli ultraottantenni Insieme alle vaccinazioni per il personale scolastico questa mattina sono continuate le inoculazioni anche per gli over 80 A causa di alcuni ritardi rispetto all'orario di prenotazione tra gli anziani in attesa si è elevata qualche voce che ha criticato l'organizzazione degli appuntamenti e la mancanza di spazi adeguati per l'attesa soprattutto in caso di pioggia Allo stesso tempo c'è stato anche chi ha sottolineato il grande lavoro svolto dalle forze preposte per la buona riuscita dell'operazione Pessima organizzazione, non si può tenere persone anziane qua un centinaio di persone ci saranno aspettare ore Ironia? Ci prendono anche in giro perché mettono l'orario come se in quel periodo di un'ora quelle persone fanno tutto Sono molti gli anziani, quello che io deduco che sono molti gli anziani e quindi avere un'organizzazione che soddisfi tutti è difficile perché chi la vuole cotta, chi la vuole cruda punto e basta questi fanno il massimo di quello che si può fare per me E continuiamo a parlare di scuola perché come anticipato nell'edizione di ieri del nostro telegiornale l'ordinanza firmata dal governatore Acquaroli sulla didattica a distanza è stata impugnata al TAR mentre ad Ancona la sindaca Valeria Mancinelli, visti i nuovi numeri del contagio ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al prossimo 14 marzo L'ordinanza regionale che istituisce la didattica a distanza fino al prossimo 5 marzo in tutti gli istituti superiori delle Marche e per le classi seconde e terze delle scuole medie nella provincia di Ancona e in quella di Macerata a pochi giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta lo scorso sabato è ora oggetto di discussione e contestazione Un gruppo di genitori facente parte del comitato Priorità alla Scuola Marche ha deciso infatti di impugnare la sentenza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Il ricorso è stato annunciato dallo stesso governatore Acquaroli attraverso il suo profilo Facebook Il presidente della regione ha affermato che nella stessa giornata in cui il provvedimento è stato impugnato diverse sono state le richieste giunte da sindaci e assessori per valutare ulteriori provvedimenti restrittivi dedicati in particolar modo al comparto scuola Riferendosi alla decisione di contestare l'ordinanza al TAR Acquaroli ha quindi parlato di una situazione paradossale mentre il comitato ha comunicato la decisione di manifestare con un presidio statico sotto la sedia della regione a Palazzo Leopardi ad Ancona per dire no alle chiusure generalizzate e per promuovere invece attività di screening e di vaccini dedicati al mondo scolastico Altro importante annuncio è arrivato nella serata di ieri dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli la quale in seguito all'avanzata dei contagi registrati negli ultimi giorni ha deciso che a partire da oggi e fino a domenica 14 marzo nel comune di Ancona saranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine grado un provvedimento urgente e necessario ha spiegato la prima cittadina visti i dati ben oltre il limite che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha indicato nelle nuove linee guida e nei diversi criteri per la chiusura delle scuole Ed è arrivata proprio poco fa la comunicazione dal governatore della regione Marche Francesco Acquaroli attraverso il suo profilo Facebook che ci informa che il governatore ha firmato l'ordinanza per cui da domani mattina alle ore 8 la provincia di Ancona passerà in zona rossa Il provvedimento sarà valido fino al giorno di scadenza dell'attuale DPCM ancora in vigore e cioè venerdì 5 marzo Per il periodo successivo, informa il governatore Acquaroli sarà emanato un nuovo provvedimento non appena sarà reso noto il testo definitivo del nuovo DPCM che entrerà in vigore da sabato 6 marzo Il governatore ha poi continuato raccomandando a tutti il massimo rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e nei DPCM Apriamo adesso la pagina degli aggiornamenti Covid Il servizio Sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7094 tamponi 5040 nel percorso nuove diagnosi di cui 2985 nello screening con percorso antigenico e 2054 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari all'8,2% I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 con quasi la metà dei casi registrata nella provincia anconetana e 67 in quella di Pesaro e Urbino Alto il numero dei decessi notificati ieri sera dal servizio Sanità della regione Nella giornata di ieri infatti sono state 16 le vittime legate al Covid e una di queste era residente a Fossombrone E apriamo ora la pagina delle segnalazioni di voi telespettatori di Rossini TV per mostrarvi alcune immagini relative ad una situazione che interessa la zona del Tribunale in piazzale Carducci ormai da diverso tempo Sporcizia, scarte di cibo ed immondizia abbandonati ripetutamente dai gnoti nell'area adiacente all'ingresso del sottopassaggio del San Decenzio e sotto il camminatoio del Tribunale Sono gli stessi cittadini che si occupano poi di ripulire la zona dai residui dei bivacchi e delle inciviltà compiute da sconosciuti Un abbandono di rifiuti già segnalato alle autorità dai residenti che non ha portato però all'interruzione di questa cattiva abitudine che si ripete soprattutto nell'arco del fine settimana Continueremo a seguire anche questa situazione e vi invitiamo a scriverci o a inviarci foto o video per denunciare le problematiche della città E partirà da questo giovedì il secondo turno di screening e tamponi destinato a studenti, docenti e personale delle scuole medie e superiori della città All'annuncio dell'amministrazione ha deciso di rispondere il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi il quale ha sottolineato la contrarietà per l'iniziativa promossa dal Comune di Pesaro e la necessità di impiegare tutte le forze disponibili per la campagna vaccinale Il sindaco Ricci di propria iniziativa senza dare retta a nessuno senza osservare le regole regionali che tutti osservano, tutti i comuni stanno osservando di propria iniziativa stabilisce questo nuovo programma di tamponi secondo noi è un programma assolutamente inopportuno perché c'è un programma vaccinale che deve essere portato avanti che è assolutamente la cosa più importante e invece si cerca di distogliere sempre l'attenzione per spostarla su un interesse proprio personale e allora è ora di dire assolutamente basta se il sindaco Ricci ha la possibilità di avere del personale a disposizione per fare questi tamponi nelle scuole parli con ASUR, con le strutture regionali affinché possano dare una mano agli operatori sanitari della regione per effettuare i vaccini si cerca di buttare continuamente alcol su fuoco sulla sensibilità delle persone sulla giusta preoccupazione da parte dei genitori delle scuole ma non è questo il momento di fare questo tipo di operazione è già stato fatto uno screening di massa nelle scuole sarebbe opportuno eventualmente ripeterlo in maniera ciclica e non ci sono né le possibilità né i tempi né il personale tutte le persone si devono adoperare in questo periodo solamente per apportare il maggior contributo possibile per la vaccinazione di massa vaccinazione che ricordiamo questa settimana inizierà ad interessare anche il personale delle scuole e della regione? Assolutamente sì quindi ancora di più questa è la dimostrazione dell'attenzione della regione Marche di cercare di andare in maniera graduale in maniera cronologica a interessare tutte le classi di persone interessate e il momento dove dobbiamo essere uniti dobbiamo buttare tutti nella stessa parte dalla stessa parte per cercare di raggiungere il risultato più importante che è quello della vaccinazione di tutte le persone e nell'ultimo fine settimana un gruppo di volontari dell'associazione Le Voci del Miralfiore ha ripulito parte dell'area verde localizzata in via Cimarosa limitrofa al parco Miralfiore si tratta di una zona che storicamente parte integrante del Miralfiore anche se ne resta fuori rispetto all'attuale recinzione poiché in passato era edificabile e dalla quale i volontari hanno rimosso una montagna di rifiuti molti dei quali si trovavano in uno stato avanzato di deterioramento restano da rimuovere ancora però molti rifiuti e proprio per questo verranno organizzate altre giornate aperte ai cittadini per proseguire l'operazione di raccolta e durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale è stato approvato all'unanimità la mozione presentata dalla nuova capogruppo del Partito Democratico Anna Maria Mattioli per l'istituzione di un premio intitolato a Maria Pia Gennari ex assessore del Comune di Pesaro e professoressa scomparsa cinque anni fa da dedicare alle civiche benemeranze in ambito educativo sportivo e arriverà lunedì 8 marzo Baci dal mondo tributo a Dante e Francesca da Rimini che darà inizio alle celebrazioni del Centenario Dantesco 2021 dei Comuni di Rimini, Gradara e delle Terre Malatestiane un flash mob planetario con studenti e insegnanti di 21 università dei cinque continenti che si collegheranno live streaming per recitare e animare i versi di Francesca da Rimini del Quinto Canto dalle 9.30 alle 18 di lunedì prossimo sarà possibile seguire l'evento in streaming sul sito www.bacidalmundo.com e tema cardine dell'ultimo consiglio comunale è stata la ridefinizione della Fondazione Centro Arti Visive Pescheria diversi cambiamenti e le novità in programma che sentiamo in questo prossimo servizio è stata approvata ieri con 22 voti favorevoli e 8 contrari la delibera presentata dal Vice Sindaco e Assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro Daniele Vimini per la modifica dello statuto della Fondazione Pescheria Centro Arti Visive che con questo passaggio potrà diventare parte attiva nell'organizzazione di eventi e nella gestione dei siti culturali la Fondazione si doterà inoltre di due nuove figure un direttore tecnico e un direttore artistico La Fondazione Pescheria come ci ha richiesto il Consiglio Comunale doveva dare il proprio parere il proprio assenso si rafforza si rafforza perché ha la possibilità di seguire anche altri ambiti non solo lo stretto legato al contemporaneo come in realtà fa da tempo nel senso anche tante esposizioni organizzate recentemente tengono insieme il patrimonio dei depositi dei musei civici il dialogo tra il contemporaneo e l'arte moderna quindi sono un lavoro che la pescheria nei fatti già sta facendo la pescheria che già come vedete è il centro artivisive quindi non solamente contemporaneo ma sta approdando sempre di più anche al digitale è una fondazione una fondazione che ha diversi anni di storia è una fondazione che stiamo rilanciando è una fondazione anche asciutta asciutta nei bilanci asciutta nei costi allora costa al comune solamente 50.000 euro all'anno che è poco più del funzionamento quasi altrettanti ne attrae in bandi finanziamenti e sponsorizzazioni anche senza andare a cercare sempre sul mercato nuovi soggetti potrebbe essere anche una fondazione di riferimento all'amministrazione il soggetto titolato non solo a gestire ma anche ripeto secondo quelli che sanno gli input del comune qualora il comune deciderà di avvalersene anche di poter fare diciamo mostre e organizzare cose come già del resto in qualche modo faceva serviva una modifica statutaria che permettesse questo permettesse di dotarsi di un direttore che diciamo avesse un po' il tempo e potesse dedicare per svolgere gli aspetti tecnici e amministrativi un direttore artistico che nei fatti la pescheria ha sempre avuto prima Sguanci come fondatore poi Pratesi ora Smarrelli ma che è sempre stato formalmente inquadrato come consulente artistico del Presidente crediamo che sia ora che una fondazione come questa si possa adottare di un direttore artistico come viene ricercato e richiesto in tutte queste situazioni ogni scelta ogni situazione ovviamente avrà tutte le caratteristiche della trasparenza perché la fondazione è una fondazione in tutto e per tutto di diritto pubblico quindi diciamo ha gli stessi obblighi di trasparenza e tutto il resto di un comune e di un altro direttore pubblico diciamo da questo punto di vista vediamo solo opportunità i voti contrari dell'opposizione si sono tradotti in un emendamento a firma del consigliere di Forza Italia Michele Redaelli per chiedere che due dei componenti del CDA della fondazione siano votati dal consiglio comunale e non attraverso la nomina del sindaco la misura è stata bocciata con 19 voti contrari ma il centrodestra con gli interventi tra gli altri del consigliere della Lega Andreolli e della consigliera di Prima Cepesaro Marchionni hanno ribadito le perplessità legate al declassamento del ruolo del consiglio comunale favorevole alla delibera e anche all'emendamento il Movimento 5 Stelle il consigliere Lugli ha parlato di una trasformazione che avrebbe preferito più in chiave collegiale ma che risulterà comunque utile a portare agilità nel campo della cultura per gli impegni futuri sottolineando l'operato di controllo che il consiglio comunale continuerà in ogni caso ad osservare e sono diversi i cantieri aperti e quelli in via di definizione in città ne abbiamo parlato nella prossima intervista realizzata da Daniele Sacchi all'assessore all'operatività Enzo Belloni che ci ha fatto una panoramica dei lavori in via di svolgimento e quelli in conclusione sulla Dante Lighieri ci stiamo lavorando e praticamente le procedure di gara sono terminate la commissione sta esaminando le offerte che ci sono pervenute e l'obiettivo era ed è quello di iniziare i lavori tra diciamo luglio e settembre del 2021 contiamo insomma di riuscirci ci sono mi sembra 9 o 10 ditte che hanno partecipato al bando di gara e penso che nel giro di 2 o 3 settimane si termineranno le operazioni di valutazione della ditta che si aggiudicherà ai lavori e quindi anche quello sarà uno di quegli interventi strategici nella nostra città è una città che è stata per tanti anni senza realizzare nuove scuole noi nel giro di diciamo di due legislature riusciremo a portare a casa due nuovi edifici scolastici l'Olivieri e ora la Dante Lighieri e non ci fermiamo qui stiamo continuando a progettare perché con progetti pronti nelle mani possiamo aggredire i bandi ministeriali europei e regionali che ci sono sul tema dei nuovi edifici scolastici parliamo dell'area attorno alla ferrovia è un'area strategica in questo momento di lavori dopo mezzo secolo si mette si fa un intervento importante sul cavalcaferrovia e sull'attigo sottopassaggio dei cappuccini sì in quell'area lì innanzitutto stiamo trattando per chiudere il parcheggio di porta cappuccina abbiamo acquisito per 1.400.000 euro all'interno del progetto Bando di Periferie tutte le aree di proprietà della stazione a ridosso dei binari della stazione stessa e attualmente abbiamo un appalto in corso già giudicato e pronti ad iniziare sul cavalcaferrovia per primo straccio di 175.000 euro anche qui stiamo aspettando le ultime carte perché come dico io qui ci sono sempre più carte che cariole parlando di lavori pubblici perché per avere un'autorizzazione passano mesi magari per fare lavori ci vogliono poche settimane e in più stiamo aspettando la validazione del progetto relativo al sottopasso dei cappuccini e del vecchio deposito delle locomotive a quell'edificio che vedete sotto il cavalcaferrovia che sarà dedicato alle biciclette al trasporto sostenibile ci sarà un piccolo bar quindi vogliamo che quella zona in qualche modo sia vissuta bisogna creare movimento bisogna creare attrattività e pensiamo che attraverso questi due interventi insomma cambi molto quella che è le dinamiche di quella zona abbiamo terminato praticamente i lavori nella rotatoria di Loreto adesso stanno arrivando i punti luce e le nuove alberature sono circa 10 e poi appena la ditta ci darà disponibilità il tempo lo consentirà asfalteremo anche la rotatoria quindi sarà i lavori saranno terminati anche quella è una delle rotatorie che avevamo sperimentato che ha dato i risultati che tutti quanti ci auguravamo e abbiamo pensato subito di investire una cifra importante per renderla definitiva nel frattempo andiamo avanti con il progetto della circonvallazione verde quella che ci vuole portare da via Fratti a via Ponchielli e il primo tratto di via Fratti è finanziato stiamo preparando gli ultimi dettagli per poi riuscire ad andare in gara e partire con i lavori entro l'anno e questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata su Rossini TV questa sera alle 21.15 potrete rivedere le puntate di Giocart il programma dedicato ai più piccoli questa sera su Rossini TV a partire dalle 21.15 e poi domani mattina torna puntuale in diretta l'appuntamento con Casa Rossini condotto da Paolo Pagnini gli ospiti di domani mercoledì 3 marzo saranno l'assessore alla gentilezza e alla crescita del comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli il fotografo e giornalista Alberto Giuliani e la titolare di non solo eventi Dali Lascatassa quindi domani appuntamento in diretta alle 10 con Casa Rossini e l'informazione torna puntuale sempre domani mattina in diretta a partire dalle 7.20 con una nuova edizione della nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini grazie per averci seguito nel nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV